Presidente, mi raccomando a tutti i cinque minuti, con il Consigliere, io ho tentato un po' di un giro che mi è invadato a vedere il Cuccio, e qui mi incontri bene con il Consigliere, nel momento, con il Cuccio Presidente, con il Cuccio Presidente, con il Cuccio Presidente. Ma, quindi, tra un patacco di delle contrattazioni, questo non mi esibire dal potenziale base di riflessione. Lasciò perdere la critica, eppure veniva fatta da qualche elemento sull'opposizione, perché fai che a me guardia la scelta di questa parte, e soprattutto dopo, in una posizione del genere, poco, poco, sai, più, più eredicato. Quindi, dopo abbiamo fatto che, ancora volta, si vuole mettere il voto, il voto che è stato espresso, e che avrebbe dovuto essere il voto con cui l'opposizione sceglieva il proprio pericolato, è stato inquinato, se vogliamo dire così, da un uso di una maggioranza, maggioranza continuare, perché, perché noi ci rendiamo parte integrante della maggioranza, che è tutta altra cosa, rispetto a quello che si sta giudicando, non si vede una, ma soprattutto a quello che si sta giudicando, le mani di interazione, poi viene anche questo punto. Guardate, io non discupo le scelte, ma, rettamente, nel momento, l'avete d'amore cazzo, perché il mio candidato, il mio sindaco, in questa notazione, c'ho messo la sua vita qua, la sua vita qua, anche a questo punto, è questo punto, è questo punto, è un dato della rivoluzione catalanea. Ma come ti fa? Tu ti prendi a questi giochi, che ti vengono preposti, proposti dal tuo nominus, e ti arrivi al discorso di questo genere qua. Ma è meglio stimolire, è il domino. Cioè, guarda una vita, queste, questi giochetti qua, lasciali parte, che ti ha interesse, e a stare e anche a suiv Oxed какую-paus, cioè tutto, quindi cioè, qui a questo punto, si allevessi, quantomeno, quantomeno, Ruggerito, perché dicevamo, cosa? Guità, il tutto, non si appena, c'est varies, esistono una vita, che avessi voluto fare moto per viendo avendo, questa parte fosse stato lucidata. Io credo che oggi sia Venbarata posso una pari della mia. e su quello che il discorso su questa amministrazione si sta prestando a fare. Credo che si sia voluto a far capire a tutti che la maggioranza sta rendendo volute. Per adesso basta andare a legge delle tecniche di ricerciarli. Gli amministrati che vengono dati, voi potete dare il chiaro comunio a ciò che sta registrando. Ma se questo è il caro Sanzagone, tu hai il dovere del pubblico a testa a me, mi dà ci sono raggiunti. Ti dico chiaramente che a questo punto tu metterai il vostro comunale e tu ti porterai i carri, per il che esistirano. Quindi in darete i giornali si potrebbero spostare la città. Poi stiamo accoglionando, come dire, di mettere i giornali, che città di partire si sta facendo le poesie, le poesie, le poesie, le poesie, le poesie e le poesie. E in altri si stanno facendo le battaglie per quanto riguarda i garecchi che riguardano la città di Marietta. Noi l'abbiamo detto che sono in più oltre a tutti. Consiglio, che non si è in più oltre a tutti. Consiglio, che non si è in più oltre a tutti. Sono tuttavo, sono arrivato in un qualsiasi momento, che questo dovesse esercire anche il carri, che si è in più oltre a tutti. Ma credo che il carri, per esempio, è una cosa che è una poesie che non interessa, perché credo che guidare ancora e portare avanti il discorso di questo genere, credo che sia la posizione che così si può fare. Mi dispiace, lo devo avvenire, se l'ha preso veramente il discorso basso, la vita è veramente la feca di tutta l'amministrazione, proprio l'altro del ministro politico. Grazie. Grazie a tutti. Allora, consiglieri Capano. Grazie a tutti.